Giorgio Manetti ha trovato l'amore Uomini e donne, Giorgio Manetti ha trovato l'amore, Anna Tedesco svela chi è Anna Tedesco ha parlato della nuova fidanzata di Giorgio Manetti, ecco che cosa ha detto su Nuovo Tv. Uomini e donne, l'amicizia tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco. Tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco a Uomini e donne c'era stata una frequentazione. Poi la storia non è andata bene ma tra loro è rimasta una bella amicizia. Tuttavia, per questo rapporto molto stretto e complice, l'opinionista Gianni Sperti ha iniziato ad attaccare entrambi. La situazione è diventata talmente insostenibile che sia Anna che Giorgio hanno abbandonato il programma. L'amicizia tra loro si è mantenuta e oggi Anna ha parlato a Nuovo Tv della nuova fidanzata di Giorgio Manetti. Anna Tedesco parla della nuova fidanzata di Giorgio Manetti. Giorgio Manetti ha abbandonato Uomini e donne in questa nuova stagione e. . Dopo la lunga e discussa storia con Gemma Galgani, adesso al suo fianco c'è un'altra donna. Anna Tedesco ne ha parlato al settimanale Nuovo Tv. La nuova compagna di Giorgio ha 53 anni, è un'imprenditrice e ha un figlio di 30 anni che vive a Londra. Anna ha detto che Giorgio ha conosciuto anche il figlio di lei e che ne è stato molto contento. . Sulla nuova fiamma di Giorgio, l'ex dama ha rivelato. . Tra me e lei c'è stata da subito una bella intesa perché da persona intelligente ha capito che tra me e Giorgio non c'è mai stato nulla se non amicizia e stima reciproca. . Anna ha poi aggiunto. Giorgio l'ha scelta non perché è imprenditrice ma perché è una donna calma, comprensiva, che ha saputo riempire gli spazi vuoti del suo cuore. . Giorgio Manetti e i prossimi progetti lavorativi. . Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha svelato di aver avviato una sua attività e di essere pronto per un grande e importante progetto. . Non è stato chiaro a che cosa si riferiva anche se ha svelato che ha a che fare con la televisione. . Le ultime indiscrezioni lo vogliono in Honduras come naufrago VIP per l'Isola dei Famosi. Giorgio Manetti ha trovato l'amore, Anna Tedesco svela chi è la fidanzata del gabbiano. . L'ex dama del trono over di Uomini e Donne parla del gabbiano fiorentino. . Dopo un periodo di silenzio, Anna Tedesco è tornata a parlare facendo delle nuove dichiarazioni ad un giornale locale. . L'ex dama del trono over ha confessato che Giorgio Manetti è felicemente fidanzato. . . Delle affermazioni che avevano provocato un polverone mediatico visto che l'ex cavaliere è molto popolare. . A distanza di alcuni giorni la donna Umbra ha rilasciato un'altra intervista, ma questa volta a nuovo, il magazine diretto da Riccardo Signoretti. . Anna Tedesco confessa di aver conosciuto la fidanzata di Giorgio Manetti. Anna Tedesco è tornata a parlare e ha fatto delle rivelazioni clamorose su Giorgio Manetti. . Ecco cosa ha confessato l'ex dama del parter senior al settimanale Nuovo. . Tra me e lei c'è stata subito una bella intesa e. . Non la scelta perché è un'imprenditrice come pensano molte persone, ma perché è una donna calma, comprensiva, che ha saputo riempire gli spazi vuoti che lui aveva nel suo cuore. . Quindi secondo la testimonianza della dama Umbra, il gabbiano fiorentino ha finalmente trovato la persona giusta per lei. . E in tutto questo cosa ne penserà Gemma Galgani? Giorgio Manetti torna in televisione. . Giorgio Manetti, però, nell'ultimo periodo non è tornato al centro del gossip per il suo nuovo amore. . Si parla del gabbiano anche per il suo possibile ritorno in televisione. . A svelare il tutto ci ha pensato il diretto interessato che ha smentito, però, che non parteciperà più al trono over di Uomini e Donne. . Secondo alcune indiscrezioni l'ex cavaliere del parterr senior di Ued potrebbe partecipare alla quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi che partirà a febbraio 2019 su Canale 5. . . . . . Grazie per la visione!